La Slbata ha comunicato ufficialmente all'amministrazione comunale di Biscegli i risultati dei controlli effettuati per verificare la presenza di traccia di piombo nell'acqua potabile della rete cittadina destinata al consumo umano. I dati sono assolutamente rassicuranti in quanto la concentrazione di piombo risulta oltre 10 volte inferiore ai limiti fissati dal Ministero della Salute, pari a 10 microgrammi per litro. Infatti si è riscontrata una concentrazione del piombo inferiore a un microgrammo per litro sui campioni di acqua potabile prelevati presso i serbatoi e sui prelievi a campione eseguiti alle fontane pubbliche nel 2013. Apprendiamo con soddisfazione che non vi sono pericoli di contaminazione del piombo per l'acqua potabile, ha dichiarato il sindaco Francesco Spina, ma la nostra amministrazione non intende a basare la guardia sul fronte della tutela della salute dei cittadini. Continueremo a chiedere controlli periodici sulla qualità dell'acqua erogata al fine di monitorare costantemente anche il parametro piombo, informando nella popolazione nella maniera più efficace capillare.